una buona giornata cari amici e bentornati sul mio canale se ieri abbiamo parlato di una stagione decisamente sofferta per il chievo per la 2004 2005 oggi parleremo di un'annata e ha regalato tante soddisfazioni al popolo giallo blu certamente la migliore stagione disposata dal chievo in serie a da quando il campionato è a 20 squadre ovvero la 2005 2006 un campionato all'inizio del quale il chievo partiva senza le luci dei riflettori puntate addosso e che poi con il passare del tempo è fiorito risultando una delle sorprese più belle aspettative sulla formazione giallo blu che sono a inizio stagione giustificate nel senso che è giusto che si pensi ad un chievo che lotterà ancora una volta fino alla fine per la retrocessione non potrà ambire ad altri obiettivi più importanti perché innanzitutto per la qualità della concorrenza visto che quegli anni sono gli anni dominati dalla triade del nord ovvero juventus milan e inter che dopo la chiusura del ciclo delle sette sorelle si spartiscono con continuità i primi tre posti come era successo l'anno precedente poi c'è la fiorentina una fiorentina reduce da una stagione soffertissima che però con l'avvento dei fratelli della valle sono al timone della società ormai da qualche anno vogliono riconquistare il posto che compete alla squadra viola e quindi in quell'estate hanno investito molto sulla campagna acquisti portando diversi nomi di spicco alla corte del nuovo allenatore cesare prendelli su tutti direi fre in porta e lucatoni al centro dell'attacco ci sono le due le due romane ovvero roma e lazio ovviamente reduce da una stagione interlocutoria e in una fase non particolarmente felice soprattutto a livello societario e finanziario ma comunque sono due squadre con rose decisamente interessanti infine ci sono le tre formazioni che l'anno prima hanno sorpreso tutti guadagnando l'accesso alle coppe europee ovvero udinese sampdoria e palermo che in quell'estate ovviamente per affrontare al meglio la competizione europea champions per l'udinese coppa uefa per sampdoria palermo si sono rinforzate quindi non sembra che ci sia spazio per altre squadre per quanto riguarda la lotta per le prime posizioni ma il campo ancora una volta sorprenderà tutti e smentirà questi questi pronostici parlando invece dell'organico del chievo e dei movimenti di mercato condotti dalla società giallo blu sia in entrata in uscita nell'estate 2005 quel calciomercato estivo è un è un mercato e non presenta particolari botti né in entrata né in uscita non arrivano giocatori di grido e questa è un po una costante del chievo perché comunque anche gli anni precedenti erano arrivati giocatori che avevano fatto bene in serie b oppure giovani emergenti oppure giocatori che magari venivano da qualche stagione negativa è difficile che il chievo avesse preso nomi particolarmente altisonanti però la differenza con le stagioni precedenti riguarda il mercato in uscita perché comunque a differenza appunto delle annate precedenti non c'è la cessione di grido la cessione che porta tanti soldi nelle casse clivensi come era capitato per esempio nell'estate 2004 con la cessione di per rotta alla roma come era capitato l'anno prima con la cessione di le grottaglie della juventus o prima ancora parlando di nomi importanti che vanno via invece che di cessioni hanno fruttato particolari proventi gli addi di corradi che è tornato all'inter e poi è andato alla lazio e di manfredini che è anche lui è passato al club bianco celeste invece nell'estate 2005 non ci sono addi particolarmente rilevanti soprattutto se si parla di cessioni perché per esempio c'è l'addio di luca marchegiani che però si ritira dal calcio giocato non viene ceduto a un'altra squadra e per il resto c'è il ritorno alla lazio di roberto varonio per fine prestito c'è il ritorno all'inter di giulio cesar che era stato parcheggiato in prestito al chievo nel gennaio del 2005 visto che i nerazzurri non avevano altri posti disponibili per giocatori extracomunitari e c'è la cessione del difensore john mensah a ren per 1,2 milioni di euro e questa sarà la cessione più remunerativa del chievo nell'estate 2005 e c'è la cessione di mattia marchesetti alla cremonese quindi sostanzialmente solo baronio e marchegiani sono giocatori che lasciano verona e che l'anno prima avevano giocato con una certa continuità sul fronte arrivi invece viene prelevato dall'inter alberto fontana che diventa il portiere titolare come alternativa viene preso lorenzo squizzi dal perugia sfruttando la crisi finanziaria del perugia e anche del torino da cui per esempio arriveranno due giovani difensori ovvero giovanni marchese e andrea mantovani a centrocampo viene preso un giocatore di esperienza e qualità come federico giunti che nella sua carriera ha vestito anche la maglia del milan mentre in avanti si punta su un giocatore molto giovane proveniente dalla nigeria e arrivato in una trattativa che coinvolto anche l'inter ovvero victor robin un attaccante veloce e scattante che molti dicono possa essere un po l'erede di ova ova martins con questa squadra il chievo si presenta alla stagione 2005 2006 una squadra che salutato maurizio d'angelo che in tre partite ha raggiunto sette punti e conquistato la la permanenza in serie a viene affidata la squadra a giuseppe pillon allenatore reduce da esperienze molto positive alla guida di ascoli e treviso l'ascoli l'ha portato in serie b nella stagione 2001 2002 per poi mantenere la categoria l'anno dopo mentre alla guida del treviso ha raggiunto un autentico miracolo visto che nella stagione 2004 2005 il treviso appunto di baby pillon ha concluso il campionato al quinto posto perdendo la semifinale playoff contro il perugia considerando però come avevo accennato poc'anzi la crisi finanziaria del perugia e del torino ovvero della finalista dei playoff il perugia e della squadra che avrebbe dovuto conquistare la promozione ovvero il torino accade un qualcosa di molto particolare ovvero il torino non può iscriversi alla serie a ma grazie all'odo petrucci conserva quantomeno la serie b mentre il perugia fallisce e riparte dalla serie c1 al posto di torino e perugia che avrebbero dovuto appunto conquistare la serie a salgono in massima serie proprio il treviso e l'ascoli due autentiche matricole che avranno però un destino diverso per quanto riguarda la stagione successiva appunto in in serie a la stagione 2005 2006 per il chievo comincia molto presto nel mese di agosto e comincia con la coppa italia che in quegli anni prevedeva ben tre turni appunto nel nel mese di agosto la prima partita stagionale è un sonante 5 a 0 al valenzana formazione che all'epoca militava nella serie c2 un 5 a 0 ottenuto grazie alla sontuosa tripletta di amauri che preannuncia una stagione decisamente positiva da parte del brasiliano dopo un'annata con più ombre che luci un 5 a 0 completato dai gol dell'attaccante salvatore bruno e dell'esterno filippo antonelli agomeri altro giocatore arrivato in quell'estate dall'ascoli al turno successivo il chievo trova la cremonese e la sconfigge con uno striminzito 1 a 0 grazie al gol di semioli che sarà uno dei protagonisti della stagione la corsa del chievo in coppa italia si ferma poi al terzo turno perdendo per 1 a 0 contro il brescia una sconfitta che impedisce ai clivenzi di affrontare il milan negli ottavi di finale che si giocheranno diversi mesi più tardi comincia poi il campionato e per il chievo comincia in modo tutto sommato positivo perché giallo blu si perdono alla prima contro la juventus campione d'italia giocando però una partita direi dignitosissima vincono e convincono nelle due partite successive conquistando sei punti contro parma e reggina e perdono per 1 a 0 alla quarta giornata con il con l'inter grazie al gol di walter samuel quindi per quelli che sono almeno in quel momento gli obiettivi del chievo ovvero di una salvezza tranquilla è stata una partenza decisamente positiva ma il chievo andrà addirittura oltre smentirà tutti quei critici che prevedevano per il chievo un'altra stagione di sofferenza infatti a partire dalla quinta giornata nella quale il chievo vince per 2 a 1 a genova contro la sandoria la squadra di baby pillon in anella una serie di ben 10 risultati utili consecutivi stazionando con grande continuità nelle prime posizioni della classifica pensate che nelle 38 giornate del campionato 2005 2006 il chievo non è mai sceso sotto il settimo posto direi un risultato assolutamente straordinario in quelle dieci partite il chievo ottiene risultati ovviamente importantissimi ho già citato la vittoria per 2 a 1 sul campo della sandoria una vittoria ottenuta grazie al gol da tre punti di victor robin primo gol in italia del giovane nigeriano che entra nell'area blucerchiata con una serpentina degna di alberto tomba e trafigge il portiere doriano un'altra vittoria decisamente da ricordare di quel di quello straordinario filotto e quella ottenuta al bentegodi contro il milan era il grande milan di ancelotti con kakashev cenko in zaghi e tanti altri fuori classe sul rettangolo verde in quella partita i rossoneri andarono in vantaggio con il gol di calazze sprecarono il 2 a 0 con cevchenko il chievo restò in partita pareggiò con il gol di sergio pelissier e poi arrivò a conquistare i tre punti grazie a uno a un bellissimo gol di simone tiribocchi che entrò in area dalla sinistra e con un perfetto destro a giro riuscì a trafiggere vida decisamente una delle vittorie più suggestive della stagione 2005 2006 del chievo va detto tornando sempre su quelle quei dieci risultati utili consecutivi che fu un filotto in cui il chievo ebbe più da recriminare che da rendere grazie alla buona sorte infatti furono più le partite in cui il chievo avrebbe potuto vincere e non ha ottenuto il risultato piano piuttosto che quelle in cui il chievo ha ottenuto di più rispetto a quanto meritasse a quanto meritasse su tutte vorrei citare due partite ovvero quelle contro palermo e lazio due gare in cui il chievo era in vantaggio per 2 a 1 fino all'ultimo minuto di recupero e in entrambi i casi ha subito il 2 a 2 proprio sul gong finale sarebbero stati 4 punti in più che probabilmente avrebbero aperto ulteriori suggestioni ulteriori scenari per la squadra di pillonna nella parte finale del girone d'andata il chievo ha un rendimento un po più altalenante conquista comunque due vittorie importanti contro udinese e lecce ma rimedia anche tre sconfitte contro messina roma e fiorentina un bottino che consente al chievo di chiudere il girone d'andata al sesto posto a pari punti con la roma di luciano spalletti a quota 30 punti quindi decisamente uno dei migliori gironi d'andata del chievo nella sua storia in serie a al di là dei risultati io però vorrei sottolineare il gioco di quella squadra che sia per il modulo schierato con continuità da baby pillon ovvero il 4 4 2 sia per il modo di stare in campo ricorda molto la formazione di gg del neri che qualche anno prima aveva stupito tutta l'italia perché il chievo 2005 2006 è una squadra che non ha paura che gioca bene che sviluppa la sua manovra sfruttando molto le corsie esterne e che crea problemi a qualsiasi squadra che si trovi in alta classifica piuttosto che in bassa in casa piuttosto che in trasferta quindi decisamente una squadra allestita non per lottare per l'europa ma che poi dimostra sul campo di meritare quel palcoscenico una squadra che può contare sull'esperienza di un come alberto fontana su una difesa che si regge ancora su tre pilastri del chievo dei miracoli 2001 2002 ovvero moro danna e lanna con davide mandelli a far compagnia a danna al centro della difesa e a completare splendidamente il reparto arretrato un centrocampo in cui recitano un ruolo decisamente importante come dicevo poco fa i due esterni ovvero franco semioli e daniele franceschini due veri e propri motorini che non si stancano mai che percorrono con grande continuità le loro corsie che accompagnano l'azione offensiva e che riescono a rendersi pericolosi sia sul piano dei gol che su quello degli assist in mezzo al campo invece figura una coppia decisamente affidabile interessante composta da brighi e giunti due giocatori decisamente complementari che conferiscono alla mediana clivense sostanza qualità intensità e inserimenti in fase offensiva capitolo a parte merita l'attacco perché a mio avviso il reparto offensivo del chievo 2005 2006 è in assoluto quello più forte tra gli attacchi su cui ha potuto contare il chievo nelle sue 17 stagioni di serie a non solo dal punto di vista dei numeri come di cui vi parlerò nella parte finale del mio racconto ma proprio per le prestazioni messe in campo dai dai giocatori che ha a disposizione bepi pillon il punto fermo ovviamente sergio pelissier che ormai da diverse stagioni è diventato il totem della squadra il riferimento non solo perché il principale finalizzatore giallo blu ma anche perché è un leader emotivo un leader psicologico di questa squadra come partner del 31 clivense si alternano diversi giocatori nella prima parte di stagione trovano particolare spazio vittor rubin che non patisce minimamente l'impatto con la serie a e simone tiribocchi che già l'anno prima aveva dimostrato di valere la massima serie che nel 2005 2006 migliorerà addirittura le sue prestazioni gli altri due giocatori a disposizione di pillon sono a mauri che nella prima parte di stagione non troverà molto spazio per poi sbloccarsi splendidamente nel girone di ritorno e costato che in questa stagione verrà chiuso dagli altri quattro attaccanti però comunque nel momento in cui verrà chiamato in causa risponderà sempre per la sua esperienza e per la sua qualità e capacità di essere decisivo il girone di ritorno comincia per il chievo con un altro risultato decisamente di prestigio ovvero il primo storico punto conquistato da giallo blu in serie a contro la juventus ricordo molto bene quella partita aprirle danze daniele franceschini con uno dei suoi puntuali inserimenti in fase offensiva la juve pareggio quasi subito con via il chievo riuscì a resistere agli assalti della super juventus di fabio calvello e concluse il match con un pareggio decisamente positivo per le sorti diversi nelle settimane successive il chievo ha un andamento decisamente altalenante ci sono vittorie altisonanti come il 4 a 0 contro la regina maturato grazie alle doppiette di pelissier e a maori ma ci sono anche delle sconfitte per esempio quella contro il parma e quella contro l'empoli entrambe con il risultato di 2 a 1 un andamento non deludente non che rischia di sciupare il campionato del chievo proiettandolo a ridosso della zona retrocessione ma comunque un andamento che rischia di impedire giallo blu di conquistare un piazzamento uefa e sarebbe decisamente un peccato visto il girone d'andata assolutamente scintillante condotto dai giallo blu l'ultima partita di questa fase altalenante della stagione clivense è appunto la sconfitta che ho citato poco fa per 2 a 1 sul campo dell'empoli ricordo molto bene anche quella partita anche perché è stata la mia prima partita del chievo vista allo stadio ricordo al castellani di empoli faceva decisamente freddo l'empoli partiva con gli sfavori del pronostico vista la posizione in classifica peggiore rispetto al chievo però spinto dai suoi tifosi riuscì a vincere per 2 a 1 grazie alle reti di tavano e riganò mentre per il chievo provò a riaprire il match brighi con un tiro che comunque è stato aiutato dal forte vento che c'era quel giorno a empoli affinché entrasse in porta chiusa questa fase un po' altalenante un po' balbettante il chievo nella parte finale di stagione si riprende ottiene risultati importanti risultati prestigiosi per esempio il 4 a 4 contro la roma e con una giornata di anticipo grazie allo 0 a 0 conquistato sul campo del lecce conquista un piazzamento valido per la coppa uefa e al termine delle 38 giornate chiude al settimo posto con 54 punti quindi un campionato decisamente strepitoso da parte del chievo che diventerà ancora più clamoroso a livello di traguardo raggiunto per quello che per quello che accadrà in estate ovvero grazie alle sentenze di calciopoli alle conseguenti penalizzazioni di determinate squadre che avevano chiuso il campionato davanti al chievo i gialloblus arriveranno al quarto posto quindi avranno la possibilità nell'estate 2006 di giocare i prestigiosi preliminari di champions un piccolo quartiere di verona che si gioca la possibilità di partecipare alla massima competizione europea un qualcosa di clamoroso veramente parlando nello specifico dei singoli che hanno particolarmente impressionato nella stagione 2005 2006 con la maglia giallo blu voglio dire un qualcosa all'inizio cioè che tutti più o meno meriterebbero una citazione ovviamente tutti quelli che hanno giocato un discreto numero di partite perché in quell'anno non ricordo un giocatore tra quelli appunto impiegati con una certa sostanza da pillon che abbia deluso tutti ognuno con una certa misura hanno dato il loro contributo per la straordinaria stagione del chievo alcuni però hanno reso meglio di altri mi riferisco per esempio a Sergio Pellissier che prosegue la sua escalation come straordinario bomber giallo blu segnando 13 gol quindi migliorando di sei realizzazioni il bottino dell'anno precedente voglio citare anche a Mauri che come dicevo prima nel girone di ritorno si scatena realizza un sacco di gol e conclude la stagione con 11 reti realizzate un bottino che lo trasformerà in pezzo pregiato del mercato estivo 2006 ho già citato in precedenza le ottime annate di tiribocchio vinna che concluderanno la stagione rispettivamente con sette e sei gol mentre scendendo al centrocampo voglio ribadire la grande annata portata avanti da franco segnoli e daniele franceschini ovvero la coppia di esterni di centrocampo in particolare mi voglio soffermare su franco segnoli che giocò una stagione decisamente mostruosa fu uno dei migliori assist man del campionato e addirittura venne convocato come riserva per i mondiali del 2006 almeno nel per il ritiro premondiale prima che poi uscissero le convocazioni definitive potrei citare altri nomi la conferma di davide mandelli l'esperienza messa a disposizione del chievo da parte dei senatori moro d'anna e l'anna l'esperienza del nuovo arrivato tra i pali alberto fontana insomma tanti attori protagonisti di una stagione decisamente indimenticabile per quanto riguarda il percorso del chievo nella massima serie bene siamo arrivati alla fine di questo racconto spero che vi sia piaciuto spero di aver ricordato emozioni che hanno scaldato i cuori dei tifosi clibensi in quell'annata e ci vediamo domani con un altro video che racconterà invece una delle stagioni più tristi della storia giallo blu